Maurizio Fiorentini è sindaco di Chiaverano ma è qui al progetto trasfrontaliero Graies Lab nella sua veste di titolare dell'azienda Levior presentando il marchio Catuma. Catuma è tipicamente piemontese, ci vuole spiegare il significato anche se abbastanza chiaro ma soprattutto lo scopo di questo marchio. Catuma in piemontese vuol dire compriamo, poi il sito si chiama Catuma con la K anche con la C per questioni di marketing e ha lo scopo di proporre nel mondo del commercio elettronico tutti i prodotti gastronomici di qualità del cannabese, quindi raggruppiamo circa 40 produttori per oltre 800 prodotti, tutti esclusivamente cannabesani e tutti esclusivamente artigianali quindi il nostro scopo è di dare la possibilità a chi voglia comprare qualsiasi prodotto di trovare un catalogo ricco e ampio e poter fare una spesa di prodotti di qualità di qualsiasi tipologia di prodotto anche magari un pochino non conosciuto io ho scoperto che in cannabese c'è una torre fazione di caffè quindi non mai pensavo che si potesse bere il caffè canavesano e quindi abbiamo scoperto anche questo quindi proponiamo sostanzialmente prodotti canavesani cercando anche di non fare solo la vendita attraverso l'online ma anche di coinvolgere ristoranti facendo serate di degustazione bed and breakfast facendo un angolino di prodotti in modo che li possano vendere ai loro clienti quindi cercando di dedicare una rete tra tutti gli attori commerciali per poter avere dei vantaggi reciproci per poter avere dei vantaggi